Lampa devotiva e spente al cimitero di Campobasso dal primo gennaio scorso e l'amministrazione comunale che si occupa direttamente di questo servizio come deciso dall'Aggiunta Gravina e come approvato anche in Consiglio Comunale. I disagi maggiori si registrano nelle cappelle che presentano dei piani seminterrati dove ci sono i loculi e che sono praticamente al buio come vi mostriamo nelle prossime immagini. Ovviamente le condizioni in cui si trovano tali loculi questa mattina hanno scatenato le proteste di alcuni parenti dei defunti che hanno avuto difficoltà ad accedere alla struttura. È tutto al buio con comprensibili difficoltà anche a percorrere le scale per accedere ai piani inferiori in cui ci sono comunque dei loculi. Infine i cittadini hanno segnalato alla nostra redazione la perdurante perdita di acqua da parte di una delle fontane presenti in una delle cappelle. Il cimitero ci hanno detto versa in una situazione di degrado e di totale abbandono che ovviamente sconforta chi già ha dovuto subire la perdita di un proprio caro.